Ben ritrovati dalla redazione di Flones Multimedia, in studio Cesare Martignan. In A1 tra Barberino del Mugello e Calenzano in direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso. Si registra inoltre traffico rallentato tra Firenze e Scandici e Incisa Reggello in direzione Roma. In A11 tra Montecatini e Chiesina Uzzanese in direzione Pisa, traffico rallentato per materiali dispersi in carreggiata. In A12 tra Pisa Centro e il Bivio A12 di Tramazione per Livorno in direzione Rosignano, coda per lavori. Nella dilamazione Luca-Viareggio, tra l'allacciamento con la A11 e Massarosa in direzione Viareggio, coda per lavori. In Fipilì in direzione Livorno, coda per lavori tra Ginestra Fiorentina e Montelupo-Fiorentino. Nel raccordo autostradale Siena-Firenze in direzione Firenze, scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze in Pluneta. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio!